Dall'impegno non politico, dall'impegno civile, oltre al successo clamoroso di Si può dare di più, hai tirato fuori delle canzoni che tu dici nel libro sono obbligatorie dal vivo perché il pubblico le vuole e tra di queste una di quelle che effettivamente il pubblico vuole sempre è Primavera a Sarajevo, che io trovo bellissima. Siamo nel 2001, tu sei stato a Sarajevo? Io sono stato a Sarajevo, ho convinto la Nazione dei Cantanti, andare a Sarajevo con una ditta farmaceutica, ci sono anche dei momenti in cui le ditte farmaceutiche fanno del bene. Ci danno un sacco di medicine e le mettiamo su un Hercules dell'aviazione militare perché a Sarajevo non c'era più l'aeroporto e andiamo lì a giocare per i nostri soldati, quello era il pretesto, ma insomma anche a vedere perché, come io dico spesso, io sono di una generazione che percepiva nell'infanzia le guerre come qualcosa di lontano. Già arrivavano con la tv in bianco e nero che in qualche modo falsava la realtà, cioè era qualcosa di non reale. E in più arrivavano dal Vietnam, dall'Indocina, dal sud-est asiatico, poi c'erano l'India e il Pakistan, cioè guerre lontane. Poi invece arrivano gli anni 90 e arriva questa guerra che dall'altra parte dell'Adriatio è qua di fronte. E' una guerra di una violenza incredibile, dove vengono veramente dissepolte asce di guerra rimaste sotto traccia per secoli. E quindi vado a rendermi conto, mi innamoro di questa città, ci torno, ci vado a fare un video, conosco delle persone, nascono dei rapporti umani con gli operatori ma anche con abitanti di Sarajevo. E quindi nasce poi, come spesso accade dietro a una sensazione forte, nasce questa canzone.